23 giugno 1980. I NAR uccidono Mario Amato. Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato assassinato stamattina in Viale Ionio, alla fermata dell'autobus che lo avevo deportato al suo ufficio di Piazzale Clodio. Dopo l'omicidio del collega Vittorio Corsio, era stato chiamato a riprendere le indagini sul gruppo della destra eversiva. Amato scopre i legami fra i NAR e la banda della Magliana ed è l'unico, insieme a Occorsio, a tentare una lettura globale del terrorismo nero. Isolato e senza scorta, Amato viene ucciso da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini, mentre aspetta l'autobus per recarsi in ufficio. Isolato e senza scorta, Amato viene ucciso da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini, mentre aspetta l'autobus per recarsi in ufficio.